Il primo trofeo Nicola Taccone va al Bordeaux. I francesi si impongono al partenio Lombardi grazie alla vittoria di misura maturata contro il Parma e dal pareggio a reti inviolate contro l'Avellino. I lupi di Rastelli dal canto loro non sfigurano nei confronti di avversari certamente più quotati e di rango superiore. E alla fine escono dal campo tra gli applausi del numeroso pubblico presente sugli spalti, raccogliendo pure i complimenti degli avversari. La serata di grande calcio prende il via alle 19 con la prima sfida tra i ducali di Roberto Donadoni e i francesi di Willis Agnol decide una rete di Sertic dopo appena 13 minuti con un tiro dal limite dell'aria. Donadoni schiera molti dei titolari da Mirante a Bia Bia Nibel, Fodil, Lucarelli, Cassani e Cassano beccato dalla curva per le sue origini baresi. I francesi appaiono più in palla e più in condizione e costringono il Parma alla sconfitta. Nella seconda gara scende in campo Lavellino che se la gioca a viso aperto contro i francesi. Alla fine sono proprio i bianco-verdi a recriminare. Sul taccuino infatti al di là di una punizione del solito Sertic dice che non c'entra il bersaglio grosso, si registrano solo azioni di Marco Erpina. I ragazzi di Rastelli giocano un buon calcio con Zito e con noi sugli scudi e riescono a costruire anche occasioni importanti.